Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo prossimo video Sono GDX e ci troviamo in questo server survival games Allora, direi di presentare subito un canale di un mio amico che fa dei video troppo divertenti Perché non è che un mio amico gli pubblicizzo il canale perché me l'ha chiesto Ma perché davvero è un amico E davvero sa fare i video mamma mia Mi diverte un mondo I miei pensieri si tolgono quando guardo i suoi video Perché mi fa talmente divertire e voglio che anche voi provate questa tentazione Quindi a me non importa se vi scrivete al mio o al suo A me non importa se vi scrivete al mio Ma a me importa se vi scrivete al suo Perché è davvero bravo e non è un cazzone nerd Quindi ha dei programmi e fa video davvero 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 troppo divertenti Quindi questo era tutto per la presentazione E il link del canale che si chiama il .g lo metterò in descrizione E andiamo via con i saluti Allora mi hanno chiesto di salutarli Karim Ciao Karim Gian Maria Ciao Gian Maria Michele Ciao Michele E secondo fammi leggere questa E basta Ok Quindi perfetto Ah si volevo dire che se volete fare un video con il sottoscritto GDX Basta che mi mandate un messaggio Mi condattate Non c'è problema Anche su Skype Sento strani i rumori Bah Ah oh cacchio si inizia Io sto guardando il lampadario LOL No E non prendo un cazzo Oh cazzo Oh cazzo Ok scappiamo Oh cazzo No Eh no Vabbè ragazzi Direi di fare un altro server Perché ragazzi Se non si può morire così Cerchiamo uno Bello Fresco Sì quello appena iniziato Vabbè ragazzi Sono server inglesi Che orari Non sono gli stessi Mi conviene accontentarmi Che sei contento a godere Come dice il proverbio Allora Ora per passare il tempo Che posso fare Allora Facciamo un parkour E bestemmiamo un po' Allora Il mio parkour preferito Parkour 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 Il mio parkour Ok Il mio parkour preferito E' quello Che sta qui sotto Lo che sta qui sotto Ragazzi Allora Dove sei? Dove sei? Ecco il qua Questo è il mio parkour preferito Dovei farlo con voi E bestemmiare con voi Non sempre da sola E bestemmiamo con voi Oh cazzo che Ok Non cominciamo a bestemmiare Ai primi dentati Ok Non bestemmiare con voi 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 Madonna 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 Non bestemmiare con voi cazzo madonna madonna cerchiamo un altro che sta per iniziare no questo no 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 dai ci sono 0 lì allo si mancano 20 secondi non ho bisogno neanche di perdere tempo per me per me che voce da scapazzo perchè due così 3 2 1 io voglio questa mappa no perchè io voglio questa mappa io dico no è un bel orario perchè davanti che sono italiani italiani perchè col botto con maiuscolo italiani madonna sto tappetino di merda sotto il mouse oh cazzo pronti partenza via che cazzo lo dico radello ma ma avete visto no no ma dico avete visto non dico nulla di strano avete visto e intanto e intanto fanno i tuoli fanno grandi tuoli fanno grandi tuoli non fanno piccini tuoli stanno facendo grandi fulmini no ma il cagno è ma lì no olì sì non è sceso sì io ti ho visto mentre ti nasconde si si cazzo come la prendo per una lega da qualcun altro prendo tu e tu se cazzo se dove salgo? qui ragazzi che marinai oh shit oh shit lì ci dovrebbe essere un'altra ciascia allora lì sotto ci sono dei pistoni no questa qua nel server si trovava i games dove sono i pistoni andremo a killare quello Eccoti 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 Spero che non hai un'armatura così forte Da ammazzare GD Può mai avere uno Un'armatura così forte da ammazzare Il pro maestro GD Chi Mamma mia Si sa eh No No Questa è una troiata Troiata Cioè ma quello che sta facendo lì Da dove cazzo è entrato Cazzo Cazzo figa Da dove minchia è entrato Cioè Ma Forse da qua No Allora Vabbè Andiamo verso lì qua Va Mi arrendo Lì c'è una cesta Lì c'è una cesta Ma forse Si sono coglione Sono un buttatore lassù Lì c'è una cesta Mi sembra che c'è Ci sono delle frecce Del cibo Tanto cibo E una spada in piedra Se non mi sbaglio Se non mi sbaglio Perché non mi ricordo Non ho una testa Regine loide Non ci ho incarato un cazzo Perché mi servivano Tu o tu Oh cazzo Non mi funziona il tasto per Ok Eccolo Sono full Pelle Si sono full Pelle Cioè prima ti Emozioni poi Beh a dire la parola E Che cazzo dici Sei full pelle Ma che minchia vuoi Beh andiamo sulla terra va Andiamo a fare qualche pvp Che sennò Il video Ma Fuck Allora Allora Hello Hello Cazzo Dove cazzo va Madonna Il mouse che gira Cazzo sui Madonna Ok Facciamo i coglioni Non ho delle frecce Non ho del pesce Ho poco cibo Non mi funziona il tasto per saltare Tantantantantant E E E andiamo con questo cazzo Ah si Non sono una car Non vi preoccupate Faccio quelle cose perché Oh cazzo Lì qua c'è qualche Qualche cosa Dicevano che vuole essere grillato Oh che hacker Oh che hacker Madonna Sto hacker di merda Ma va a fa un culo va Sto hacker Avete visto Ho cominciato a picchiare Mi ha fatto Madonna Che hacker Che hacker Della madonna Oggi mi chiamano Cdx Il pro E ormai li ammazzo tutti Anche tu E sarò ucciso Oh cazzo La spada in diamond E qua lo vado a sfidare Prima che mi ammazzi Affido le frecce Bellissima la spada Fratello Fratello Bellissima la spada Ok Vabbè raga Direi che da Gdx è tutto Un saluto E ciao ciao